si vede no non ci vede no non riesco a vedere nulla non ci vede nulla interrompo e rifaccio la registrazione è avviata si deve mettere il profetto del si si aspetta un attimo si si la presentazione un attimo e oggi il computer si è aggiornato un po diverso ecco ecco segretaria prego può chiamare l'appello per favore grazie seduta di consiglio del dell'otto 6 2021 ore 9 e 41 teresi fabio assente aiello andrea presente altadonna salvatore presente cavaliere giuseppa presente di gesù simona presente figuccia marco assente lo sardo fortunato umberto presente lucido roberto presente palazzo daniele presente stabile francesco presente presente otto presenti e due assenti grazie consigliere buongiorno scusate sono presente consigliere aiello scusate ah perfetto allora così sono presenti in quanto nove nove presenti in assente grazie consigliere segretaria ehm visto il numero legale la seduta è aperta consiglieri come dichiarato dal presidente come concordato eh con tutti i consiglieri ehm eh chiudiamo eh chiudo la eh seduta per dare la possibilità a tutti i consiglieri come già è stato effettuato ieri anche dal presidente per quanto riguarda il traslogo di largo coltito la seduta è chiuda ci vediamo a noi arrivederci buona giornata buona giornata una buona giornata a zielo